Immaginatevi di trovarvi in una spiaggia incontaminata, dove la bellezza naturale sembra quasi infinita. Eppure, anche in quest'angolo di paradiso, la plastica galleggia tristamente nelle acque cristalline. Si accumula tra la sabbia e tra i coralli. Durante il mio recente viaggio in Indonesia ho avuto modo di vederlo con i miei occhi, e la vista di questi rifiuti che deturpano il nostro bellissimo pianeta provoca un dolore profondo, un grido silenzioso che richiede di essere ascoltato. Con le prossime opere desidero catturare questa drammatica realtà e trasformarla in un potente messaggio visivo. Utilizzerò, prevalentemente, plastica. Questo materiale sarà il cuore pulsante per queste creazioni, evidenziando la necessità di un cambiamento urgente. Ogni piccolo pezzetto di plastica incorporato nelle opere rappresenta una storia, una testimonianza della nostra impronta sull'ambiente. Il mio obiettivo questa volta sarà quello di sensibilizzare l'importanza della sostenibilità ambientale e sull'impatto devastante che hanno purtroppo a volte le nostre azioni egoistiche. Spero che queste opere possono far riflettere, ispirarvi, ma soprattutto che contribuiscono a promuovere azioni più concrete per la salvaguardia del nostro pianeta. La natura è il nostro bene più prezioso, fondamentale per il nostro benessere e la nostra sopravvivenza. Prossimamente condividerò con voi i prossimi work in progress, coinvolgendovi in questa mia missione di speranza e cambiamento. Ciao!